Quest'anno, nonostante i contagi non abbiano allentato la morsa e l'Italia si è blindata per la Pasqua, sarà possibile partecipare alle funzioni religiose che lo scorso anno vennero seguite esclusivamente in streaming sui vari canali delle parrocchie. Anzi, secondo quanto stabilito dalla CEI, la diocesi di Tegiano Policastro ha ribadito la necessità che fedeli partecipino in presenza alle celebrazioni liturgiche nel rispetto di tutte le disposizioni precauzionali, ricorrendo ai social solo lì dove è strettamente necessario. Per rendere ciò fattibile e sicuro sono stati operati alcuni cambiamenti alle funzioni religiose con lo stop a tutte le processioni e l'obbligo ai fedeli di seguire le funzioni senza muoversi dal proprio posto. Il 28 marzo prossimo, quando ricorrerà la Domenica delle Palme, la benedizione dei rami potrà tenersi anche in altre messe del giorno o nel pomeriggio della vigilia. Il rito comunque si dovrà svolgere all'interno della Chiesa, evitando spostamenti dei fedeli e limitando la processione ai soli celebranti e ministranti. Ogni fedele potrà portare con sé il proprio ramoscello, ma non potrà scambiarselo con altre persone. La Messa Crismale, invece, preseduta dal Vescovo nella Cattedrale di Tegiano, mercoledì 31 marzo alle 17, vedrà una partecipazione contingentata dei sacerdoti. Tutti gli altri seguiranno la cerimonia dalla pagina Facebook della Diocesi o si potranno allestire degli schermi nelle chiese delle varie parrocchie. Gli oli santi verranno poi affidati ai vicari foranei che li consegneranno alle varie parrocchie. Il giovedì santo si ometterà la lavanda dei piedi e anche la benedizione e distribuzione del pane. Si potrà invece allestire l'altare della riposizione a condizione che vi sia lo spazio per evitare assembramenti. L'adorazione dovrà rispettare gli orari del coprifuoco. Il venerdì santo il bacio della croce verrà compiuto solo dal presidente della celebrazione. I fedeli si uniranno dal loro posto con una genuflessione e dopo la celebrazione il crocifisso dovrà essere esposto in modo che non possa essere toccato e baciato. La veglia pasquale, infine, potrà essere celebrata in tutte le sue parti in orario compatibile con il coprifuoco. Si dovrà però osservare attenzione alle norme sanitarie nella distribuzione delle candele, mentre sarà vietata la consegna delle boccette con l'acqua benedetta alle famiglie.